Salute a tutti! Il mio nome è Mattia Prometeo e sono il profeta fatato del giardino che non c'è, destinato a salvare il mondo. Benvenuti o bentornati, ma bentrovati, all'appuntamento quotidiano della rubrica del giorno del calendario. Calendario filosofico, ovviamente. Oggi è il 5 maggio 2021 e questa è la frase di oggi. No, tranquilli, sono qui apposita. La frase di oggi è di Garth Steyn, lo scrittore statunitense. Finalmente ospitiamo la frase di qualcuno che ha almeno una pagina su Wikipedia e quindi, insomma, sappiamo chi può essere, chi può non essere, in che contesto metterlo, però, insomma, leggiamo la frase che è più importante perché qui è la rubrica del giorno del calendario filosofico, ovviamente. Non è importante il messaggero quanto il messaggio e quindi, ambasciador, non porta pena. Leggiamo la frase di Garth Steyn. Le persone si preoccupano sempre di quello che succederà dopo. È raro che se ne stiano tranquille a occupare il presente senza pensare al futuro. In genere quello che hanno non le soddisfa e quello che avranno le preoccupa molto. Insomma, Garth Steyn ci rielabora il Carpe Diem. Di chi era il Carpe Diem? Lasciate un commento qua sotto per dirmi di chi era il Carpe Diem. Vi do un suggerimento. Era Tino dei tempi di Nerone. Va bene, lasciando le sciocchezze. Che ci dice Garth Steyn? Nulla di nuovo in fondo, no? La gente è persa nel dialogo interiore. E il dialogo interiore è sempre distante dal qui e ora, dal momento presente e dall'attimo presente. Nel senso, dal luogo presente, volevo dire. Ecco, purtroppo la mente razionale, la mente razionale può funzionare solo quando è riempita di contenuti e questi contenuti possono provenire o dalla memoria degli eventi passati o dalla fantasia dei momenti futuri. Perché se si tolgono i contenuti alla mente razionale, la mente razionale è vuota, collassa su se stessa, non ha niente da fare e allora farci si gode l'attimo presente. E quindi questo ci dice Garth Steyn, che purtroppo siamo in un mondo di persone che non si sono accorte di possedere un dialogo interiore, non si sono accorte di avere un ego. Insomma, l'ego ce l'hanno sempre gli altri, mai noi, eh? E quindi è questo, non ci si ferma a contemplare il presente. Perché per fermarsi bisognerebbe già innanzitutto rendersi conto che ci si sta muovendo, ci si sta muovendo perché si ha un piano in testa. Si ha un piano in testa perché non si è soddisfatti di quello che si ha nel presente. Bisogna cambiare, si deve cambiare, bisogna ottenere obiettivi, eccetera, eccetera, eccetera. Obiettivi e prodotti soprattutto. E quindi le persone si preoccupano. Le persone si preoccupano, le persone stanno in uno stato emotivo di preoccupazione perché quello che hanno adesso non è abbastanza. Quello che verrà dopo non c'è ancora. Quindi bisogna stare con questo patema d'animo adesso perché senza questo patema d'animo adesso non si ottengono risultati poi. Ovviamente non è così. Ovviamente i risultati li ottiene semplicemente chi vive in santa pace. Chi non vive in santa pace non ottiene risultati. O per meglio dire i risultati che si ottengono nella vita sono sempre in funzione ed espressione delle emozioni che portano l'individuo ad agire per ottenere quei risultati. Quindi se io sono mosso dalla preoccupazione avrò dei risultati che sono l'espressione di questa preoccupazione. Se io invece agisco in calma, con la calma interiore, in uno stato di allegria, se agisco avendo fiducia negli eventi, se agisco avendo fiducia nella natura della quale faccio parte e sono espressione, allora avrò dei risultati che saranno espressione di questa mia calma, di questa mia beatitudine, allegria e fiducia. Molto semplice come cosa e ne ho parlato tanto in tanti altri video. Per esempio quello sul ciclo della fede. È raro che se ne stiano tranquille a occupare il presente senza pensare al futuro. Grazie Gartstein per aver detto che è raro e non impossibile. Perché sì, è raro. E mi piace anche questa cosa che Gartstein dice che è raro delle stesse persone che si preoccupano. Non è impossibile che una persona che normalmente si preoccupa non possa affrontare, permettetemi il termine affrontare, non possa affrontare un momento di lucidità. perché in realtà è così. Tutte le persone che sono normalmente, come dire, automi, droni, persone comuni, dormienti, cugliuna, ok? Questi individui, come ogni cosa, come ogni fenomeno naturale, non sono piatti, sono un'onda che va. E allora per il loro andare sempre più giù nel baratro dell'automatismo, a un certo punto, boom, hanno un picco di lucidità che va a compensare quello quel profondo stato di dormienza, di sonno. E quindi sì, è raro, ma non impossibile. E quindi c'è speranza per tutti e bisogna anzi far leva su questa cosa, su questa rarità. Bisogna far leva nei confronti di questi individui. Perché sennò veramente si è... sennò si diventa dei cinici a guardare questi individui. in genere quello che hanno non le soddisfa e quello che avranno le preoccupa molto. bella comunque. In genere quello che hanno non le soddisfa. Mi piace soprattutto il fatto che dice in genere, perché riprende il fatto che prima è raro questa cosa della possibilità, questa cosa della possibilità che hanno pure gli automi. Perché il problema dell'automa è che quando viene osservato da qualcuno che non è un automa, che fa quello che non è un automa, lo giudica in un modo drastico, in un modo netto e dice tu sei un automa, sei stato un automa e sarai un automa. E così il risvegliato determina il proprio grado di risveglio. E non è totale, non è assoluto, non potrebbe mai esserlo. E quindi diciamo c'è anche quello che si chiama ego spirituale. Cioè il dialogo interiore di un individuo viene riempito di argomenti spirituali e poi si tramuta in un diverso ordine di giudizio, in un diverso grado di giudizio dell'altro. Succede soprattutto a chi allena la facoltà di vedere gli altri, ma vede bene al di fuori di sé, ma non vede tanto bene all'interno di sé, no? Si dice così solitamente. E quindi succede questo. Proprio diciamo quel gradino in più, il primo mi viene da dire il gradino zero del risveglio spirituale. Nel momento in cui ti accorgi che gli altri hanno un dialogo interiore, inizi a vedere il dialogo interiore degli altri e a un certo punto ti scordi di averlo pure tu. In genere quello che hanno non le soddisfa e quello che avranno le preoccupa molto bene. Sappiamo perché le persone si preoccupano di quello che succederà dopo, si preoccupano di quello che avranno. Cioè la preoccupazione del futuro secondo Garth in questa frase è legata al possesso. Non potrei essere più d'accordo soprattutto perché siamo in una società, siamo in una società basata sugli oggetti. Cioè il potere di un individuo oggigiorno è determinato dalla sua capacità di avere oggetti che funzionano. Perché sono gli oggetti che ci permettono di affrontare l'ambiente esterno. Questo perché oggigiorno abbiamo generalmente, parlando, perso la capacità di adattarci all'ambiente. Il che vuol dire che non sappiamo semplicemente prendere un ramo e usarlo come se fosse una pala. Dobbiamo avere la pala perché il ramo non è abbastanza per fare un solco. E quindi abbiamo questo questo problema. Di conseguenza siamo siamo in dipendenza degli oggetti che avremo. Non di quelli che abbiamo, di quelli che avremo. Perché poi la dipendenza è una questione appunto mentale. E quindi ci preoccupiamo di quello che avremo un domani. D'altra parte in questo contesto arrivano le tasse che in Italia sono particolarmente alte. E quindi qual è la questione? E se domani non avrò i soldi per avere le tasse, che succede? Arrivano le persone a spaccarmi le gambe? E quindi la gente con questa mentalità che fa? Si procura i soldi per pagare le tasse. Chi è un attimo un po' più risvegliato, ma non serve essere illuminati, chi è un attimo un po' più risvegliato invece di cercare i soldi per pagare le tasse, si cerca il corso di autodifesa. Perché così impara a difendersi da chi gli vuole spaccare le gambe per fargli pagare le tasse, è così insomma hai risolto due piccionichi con una fava. Perché diventi un artista marziale, puoi andare a fare il vigilante mascherato come il sogno di tutti i bambini e in più non paghi le tasse. Cioè sei come Batman, non sei ricco, però se qualcuno vuole farti pagare le tasse con i soldi che non hai, lo spacchi di botte, bellissima come cosa. Tetrack, hai risolto tutto. Va bene, tralasciando le sciocchezze i miei cari spettatori, i miei cari psicocriminali, cercate di non diventare eccessivamente criminali in realtà e state nell'ambito psicologico. Grazie per la visione, grazie per l'attenzione, io come sempre, mano sul cuore, vi ringrazio e vi auguro il meglio e solo il meglio e vi saluto fino al prossimo video. Ciao!